Ecco qui, siamo in posizione sull'S&P 500 con 6 mini contratti, attualmente siamo intorno ai 1.600 euro di profitto siamo giunti sul primo target che è questa linea grigia, primo target volumetrico chiaramente vediamo se il prezzo riuscirà a sfondare il primo target, cosa che ha fatto e vediamo se arriverà anche al secondo target che abbiamo impostato questa è un'applicazione di una strategia volumetrica, quindi strategia intraday di Volumaster vediamo qui se, ok abbiamo chiuso all'incirca sui 2.000 euro, un'operazione ripeto intraday qui andiamo a vedere quello che siamo riusciti a fare nella giornata, oggi è il 20, sono 2.058 più 200 euro quindi siamo intorno ai 2.250 euro, questa è la potenzialità di Volumaster se non lo hai ancora fatto scrivi alla mail che trovi qui in descrizione per ulteriori informazioni